Grazie Presidente, per me state sbagliando approccio, ve lo dico da membro della maggioranza, ma anche con spirito di collaborazione. Sbagliate un approccio perché l'approccio giusto oggi sul tema dei rifiuti è una cooperazione, una collaborazione tra maggioranza ed opposizione. Stiamo in qualche modo denigrando e in qualche modo anche strumentalizzando un'azione di indirizzo che è stata data dalla Commissione Ambiente a prima firma dalla Consigliera Ficcardi su un regolamento che non vedeva una modifica dal 2005. Sono all'incirca 14 anni che il regolamento di gestione dei rifiuti non viene aggiornato sulla base delle nuove norme del testo unico ambientale e questo è un fatto chiaramente molto rilevante e anche molto grave. Perché se vogliamo sostenere l'ambiente, se vogliamo aiutare l'ambiente, dobbiamo recepire quelle norme ambientali che oggi difendono il nostro ambiente, il nostro ecosistema e questo regolamento sicuramente ne è una parte. Sicuramente è un indirizzo che si dà, ma un indirizzo che pone fine a un'azione stantia, un'azione non evolutiva. Noi vogliamo apportare delle modifiche ad un regolamento che darà il via e che darà un'esecuzione positiva ad un'evoluzione che in questo momento la città di Roma ne ha fortemente bisogno. Si è discusso sul tema dei frontisti e lì si è fatta molta polemica, ma vedete è una polemica che non deve essere recepita, che è sicuramente una polemica che non ha nessun fondamento e nessuna base. Perché la pulizia dei frontisti viene eseguita in tutte le città europee e anche in tutte le città italiane, viene eseguita anche oggi ma non è normata e questo sicuramente nel regolamento della gestione dei rifiuti urbani è importante stabilire una norma che dia una solidità normativa appunto a un sistema che viene già fatto. Perciò non ci deve essere polemica, colleghi, non deve esserci nessun tipo di polemica su un'azione che mira a modificare un regolamento che oggi sicuramente questa Commissione farà un lavoro, io spero anche, col contributo delle opposizioni. Si è fatta una polemica anche sulla proroga del contratto di servizio. È stata fatta una proroga di tre mesi a fronte delle proroghe di anni e anni che venivano reiterate dalle passate maggioranze, perciò dal centro-sinistra. Parliamo di proroghe che sono state portate avanti per anni e anche per 5-6 anni. Oggi noi invece abbiamo fatto una mini-proroga di semplicemente di tre mesi per dare l'opportunità ad AMA e agli uffici e anche alla parte politica di dare quegli indirizzi giusti di cambiamento e innovativi per modificare un contratto di servizio che oggi ha paralizzato la città. E questo lo diciamo perché nell'epoca marino quel contratto di servizio che prevedeva l'obbligo del servizio giardini di svuotare i cestini all'interno delle viglie storiche è un fatto molto grave, un fatto che in qualche modo ha reso difficoltà e azione da parte degli operatori del servizio giardini di svolgere appieno il loro ruolo. Ecco oggi questa maggioranza sta dando delle linee di indirizzo molto chiare, molto evidenti per dare un contratto di servizio efficiente ed efficace alla città di Roma. Perciò una proroga di tre mesi sicuramente non è un qualcosa dove si può addossare una colpa a questa maggioranza ma anzi bisogna dare un supporto nei termini politici per portare a termine un lavoro importante e risolutivo al fine di garantire dei servizi importanti per Roma Capitale. Non dobbiamo fare polemiche sulla qualità del servizio che oggi questa città e che l'azienda Amaga sta erogando, perché l'incendio del TMB salario, cari colleghi, non viene a caso. C'è un disegno molto evidente, molto chiaro, da delle forze legate sicuramente a un contesto malavitoso che vogliono in ogni modo struire questo cammino di cambiamento all'interno della nostra città. Ci fu un incendio anche nel 2015 e allora la Giunta Marino non fece nulla, non diede nessun tipo di impulso e non fece nulla per riconvertire quell'impianto e per chiudere quell'impianto. Oggi questa amministrazione ha portato una visione chiara sul futuro del ex TMB salario, perché lo dobbiamo chiamare ex TMB salario. Chi lo chiama ancora TMB salario è perché su questo tema vuole specularci e vuole farci un gioco politico, un gioco al massacro e noi su questo gioco non ci stiamo. L'ex TMB salario avrà una vita diversa, una vita sicuramente che gioverà al territorio del terzo municipio e come non è stato fatto nel 2015, oggi nel 2019 verranno apportate avanti quelle iniziative per riconvertire quell'impianto e per dare una vita nuova in quell'area. Ecco questo dobbiamo prenderne atto, dobbiamo essere uniti su questi indirizzi e non attaccare la maggioranza che ci crede fermamente su questo cambiamento, perché in questo caso, in questo contesto continuiamo a fare il gioco di chi vuole mettere i bastoni dalle ruote e di chi vuole fare un gioco legato al malaffare. Ricordiamo semplicemente che tutti i cassonetti che oggi vengono incendiati, dal 2008 al 2016 sono stati incendiati 620 cassonetti, pari a 80 cassonetti all'anno. Oggi dal 2016 al 2018 sono stati incendiati ben 590 cassonetti, pari a 256 cassonetti all'anno. Questo è un fatto molto evidente, cari colleghi, questo è un fatto talmente evidente che ci fa comprendere che c'è un'azione sovversiva, un'azione di malaffare, malavitosa che vuole contrastare questa amministrazione e la stessa azienda AMA. Noi dobbiamo essere uniti per portare a termine questi indirizzi, per portare a termine la volontà di dare a Roma degli impianti che per fortuna portano a riciclo i nostri materiali post-consumo. E questo è un dato importante perché le linee guida che sono state evidenziate durante il Consiglio di amministrazione di AMA dettano una linea di cambiamento, una linea di futuro, una linea di rinnovamento e sono queste le basi importanti per poter costruire un'economia circolare all'interno di Roma Capitale. Perciò cerchiamo di fare una politica diversa, una politica costruttiva, questo lo dico per voi, perché i cittadini non vi hanno votato, per questo motivo, perché hanno notato che le opposizioni, oggi opposizioni, in questi ultimi anni non hanno dato una visione a questa città, non hanno dato un cambiamento a questa città. Io cerco oggi di stimolarvi e non fare più quegli interventi populisti, ma di consigliarvi di dare un contributo fattivo alla stessa Commissione Ambiente, alla stessa Assessore Montanari e alla stessa Sindaca e di non affossare più il nostro lavoro, che è il vostro lavoro e il lavoro di questa città. Nello scorso intervento ho detto, terminando il mio intervento, uniti possiamo cambiare questa città, uniti possiamo cambiare la visione del ciclo dei rifiuti a Roma. Ecco, facciamolo, facciamolo con serietà, facciamolo con onestà, facciamolo con determinazione. E io credo che in voi ci sono degli elementi positivi e degli elementi che vogliono questo cambiamento. Portiamo degli atti che vanno in questa direzione. Io ci credo a questo cambiamento, ci credo a a queste strategie che mirano finalmente a dare un futuro diverso a Roma, un futuro dove l'economia circolare è il tema principale. Grazie, Presidente.